Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo episodio della Pixelmon Allora ragazzi, oggi andremo a fare un paio di cosette Però prima, volevo farvi vedere, ho appena ucciso un Rayorn Boss Che mi ha droppato la pietra di foglia, telecinesi, palla ombra e la dive ball Che non so per quale tipo di Pokémon serve Quindi una dive ball non ce l'avevo, quindi perfetto Telecinesi e pure Shadow Ball, ce n'ho tre Mentre la, la 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 la, pietra di tipo erba la lasciamo qui Allora, poi nello scorso episodio alla fine mi sono scordato di imparare Ice Beam a Dragonair Quindi lo facciamo subito Dragonair salito al 48 Ice Beam gli togliamo Slam Ok Poi lo andiamo a provare Nella mia squadra come vedete c'è l'Iron che al 55 l'ho catturato nello scorso episodio Si, nello scorso episodio, quindi se ci riesco lo farò evolvere in Agron E poi vi volevo fare nuovi tipi di Pokéball Ho fatto altre ultra ball off camera E questi altri tipi di Pokémon sono Le Fastball e le Premier Ball Quindi le Fastball dovrebbero essere i corrispondenti delle Velox Ball Quindi quelle che bisogna tirare ai primi turni di battaglia Mentre le Premier Ball sono quel tipo di Pokéball che sono usate per eventi speciali Quindi per adesso noi le abbiamo fatte Poi le crafterò Quindi schiaccerò Appiattirò i dischi E anche le parti di Iron Poi vabbè farò proprio tutta la Fastball o la Premier Ball E poi Volevo proprio fare alcune cose Proprio Che fanno parte della Pixelmon E anche dei Pokémon in generale Queste cose sono Un Amo Che si fa in questo modo Eccolo L'Old Road Quindi questo è l'Amo E poi volevo fare anche le scarpine Per andare un po' più veloci E si fanno in questo modo qui Ah cacchio Devo fare prima i Boots Facciamo prima i Boots Eccoli Poi Feather Feather Ferro Ferro Eccoli qui Gli Old Running Shoes Ci sono anche quelli più potenti Però non li posso fare Perché mi servono i diamanti E quindi noi ce li mettiamo Vedete è cambiata anche la visuale E vedete che corro Molto di più rispetto a prima Perché come avete letto C'è il 50% di velocità in più Quindi Una cosa epica Che Mi piace molto E poi proviamo anche L'Amo Andiamo a provare subito l'Amo Lo proviamo qui Ciao Alex Lo proviamo qui Non so come funziona Perché non ho mai pescato Credo sia Come il vecchio Minecraft Però Non ho preso niente Adesso si lo so Però Perché non vedevo bene l'Amo Proviamo qua E' un po' Buggato Forse devo andare più lontano No Non saprei Vedere Come C'è Quando prendo un Pokémon Che cosa Che cosa fa quest'Amo Quindi vabbè Vediamo un'ultima volta Vediamo se sale a galla Vediamo Vabbè No niente Poi Magari off camera vedrò Come Come si fa Quindi però E' un nuovo oggetto Che abbiamo Che ho fatto appunto Con una Pixelmon Forse una cosa Che dovevo fare un po' prima Oh 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 Un ditto Ce l'ho ditto Salve E' entrato in casa mia Ce l'ho ditto Aspettate Faccio prima Ad andare qui Ditto ce l'ho Ditto 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 Qua no Ditto 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 no Non ho un ditto Allora prendiamolo ditto Vieni qua ditto Al 26 Vieni 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 da Blue light Ok 40 di vita Ce l'ha Adesso andiamo appunto Con Un ultra ball Una semplicissima Ultra ball Vediamo un po' Se riusciamo a catturarlo Subito Se no Proviamo un attimo A cambiare i pokemon Waiting waiting No è uscito il bastardo E Quindi Proviamo un attimo Con Marshtomp Non gli vorrei fare Tanto male Che gli faccio però Ah ecco Lui ha imparato Muddy water Che è una mossa Molto Potente Però vabbè E' morto E' morto E mi ha droppato Delle slime ball Vabbè So che qui ce ne sono molti Qua in giro Quindi Perché l'avevo già incontrati Qua E' ditto Quindi non fa niente Anche se ho ucciso quello Ne trovo altri Allora adesso Andiamo con l'iron E Vediamo un po' Primo che mosse ha Perché Non l'ho ancora provato Secondo Andiamo a vedere Quanto è forte E Soprattutto Facciamo l'evolver Qui Ci sono altri slime ball Proviamolo subito Contro Taurus Al 45 Ah Ah non si è curato Non l'ho curato E' vero L'ho preso direttamente Dal box Quindi vabbè Facciamo Iron Head Metal testata Eh toglie abbastanza E Metal Claw No Allora Ritorniamo con Oh Iron Head Allora vabbè C'era C'era anche Tickle Però va bene Lo stesso Ok Qua c'è della pelle Quindi andiamo a curarlo subito Io pensavo che era Curato Perché so che nei Pokémon Quando un Pokémon va al box Si cura Mentre qua nella Pixelmon Non è così E quindi sono un po' Diciamo Non sono ancora abituato Bene A questa cosa del box Quindi Curiamo velocemente I nostri Belli Pokémon Ok Perfetto Entrato Nidorina dentro Oh Un Raichu Bello grande Però non è boss È solo bello grande E via qua Ci pensiamo noi Io e l'Iron Porca miseria Mi hai tolto un bel po' Aspetta Non ci penso io e l'Iron Ma magari ci pensa Flygon Forse Flygon Che ha imparato Iper Beam Quindi Iper Raggio E non gli ho fatto un cacchio Cioè Iper Raggio Toglie 150 130 E non ho fatto niente Niente Cioè Gli ho tolto pochissimo Pensa un po' Pensate un po' Quindi andiamo con Sentomb Sentomb Di nuovo Ok Raichu morto Super efficace 1498 punti Per L'Iron 1717 Per Flygon C'è quest'Arbok Che Si muove Velocemente Mi vuole sfidare È pronto Eccolo Mi sfida Dragonair Ice Beam Lo proviamo Non gli ho tolto un cacchio Dragon Rage Dragon semplice Dragon Rage Andiamo con Dragon Rush Dragon Rush Bam Shuttato L'ha shuttato L'ha shuttato Sì 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 L'ha shuttato Un allenatore al 20 Stuart Via qua Stuart Che te apro la zia Oh Non c'è prova più Mazzano È una branda L'Iron Vai che stavano al 20 Nemmeno ho visto bene il livello Cioè l'allenatore in generale Stava al 20 Però L'ha shuttato comunque Meo Guardate il mio campo Che bello che è diventato Grazie Meo Grazie che ci sei ripassato tu È stato molto d'aiuto Oh qua sono cresciute tutte le gicocche Oh perfetto Giusto una qua Due Prendiamole un attimo Che mi servono Oh delle golden nugget Le prendiamo tutte Mi servono soprattutto Quelle nere Per fare le ultra ball Perché appunto Ne servono due Per fare Un ultra ball Vieni qua Aspettate Forse dicono Due per un ultra ball Vabbè me ne servono Sì dai Due Aspettate Devo verificare subito Non mi ricordo Quanti dischi mi dà Se metto due Appunto due nere E una gialla Non mi ricordo I dischi Che mi dà Vediamo Proviamolo subito Un piccolo Oh elikid Ce l'ho già Mi torna niente Vole stare qui con me Però io non la voglio catturare Allora nere Naturalmente Non ce l'ho cotte Mi sono dovuto fare Il crash call Perché ha finito Tutto il carbone Quindi Dovrò andare A prendere Altro carbone E Intanto Vogliamo questa roba Quindi pelle Questo 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 Basta Facciamoci Quelle nere Prendiamoci un attimo Questo Due Basta Fermati Allora Quanti me ne danno Qua uno solo Sì quindi avevo detto Due nere per Un ultraboll Perché poi con questa Ci fai Un ultraboll E quindi vabbè Niente Era una piccola cosa Che dovevo vedere io Una cosa personale Quindi Adesso Andiamo da quest'altra parte Quaggiù Ok ragazzi Sono Arrivato in questa Piccola isola E a parte Gli shelder Infiniti Ci sono una marea Di allenatori Questi però Sono tutti Di tipo acqua Io però Non ho Né un pokemon Di tipo elettro Né un pokemon Di tipo erba Quindi andrò A sconfiggerli Con dragon air Con Dragon rage O dragon rush O in questo caso Acqua tail Però vabbè Perché era Magical Quindi con magical Posso fargli Qualsiasi mossa Adesso lui Mi ha messo Golding Al 29 Vieni qua Dragon rush Oh Ecco adesso Si fa un po' Più pesante La cosa Perché ha messo Lapras Però Io l'ho Shuttato Quindi Ehm Al 49 Ne mette un altro Ok Dragon air Al 49 Lui sta al 30 Ok Sfidiamo lui Al 30 Starmi Al 30 Dragon rush Dragon rush Non l'ho preso Dragon rage E poi Acqua tail Allora Acqua tail Non gli ha fatto niente Naturalmente d'acqua Però pensavo che lo uccideva Guardado Guardado Il dragon rush Guardado Dragon rush Si io dico Guardado Il dragon rush Tu lo prendi Grazie Si che è in dragon rush Però dragon rush Sta a finire L'ho ucciso Quindi adesso c'è Lapras Lapras è un po' più complicato Anche se Adesso che sta al 31 Dragon rush L'ho finito Quindi dragon rage A palla Dragon rage Dragon ice Sta rischiando Con 19 di vita E non morire adesso Acqua tail Perfetto Kitty galit Vinto Ok Dragon air Dato che io ho le pozioni Non so se si possono usare Direttamente così O se le devo dare per forza No ok Gliel'ho data Vediamo un attimo La vita Si 39 E diamogli un'altra Vieni qua Fermati Ok Non gli posso dare un'altra Si gliel'ho data un'altra Però Credo che è andata spiegata Perché 49 Boh Vabbè Ah si 59 Non l'avevo visto Ok Si è funzionato Stavo leggendo il livello Allora 36 36 Vieni qua 36 mi piace Blastoise al 35 Perchè miseria E Ci è bloccato Un atomo Ok Blastoise al 35 No Dragon Rush è finito È vero Sperando che ha 120 di vita Dato che io ho solo 3 Dragon Rage Quindi 40 Ha laggato un po' E quindi ho deciso di Di non mettere appunto la parte in cui volavo con Charizard Perchè si vede un po' a scatti E quindi c'è brutto anche da vedere E quindi Ho ottenuto per me La parte in cui volavo Adesso Hitmonchan sta Uccidendo Un po' tutti Non è vero Ho ucciso un po' Come per adesso Però si uccide pure Blastoise Eccolo Bullet Punch Bammo Morto Hitmonchan al 35 Entra Geritos Guardate quanto è grosso È gigante Bullet Punch Ne tolgo un cacchio Vabbè Moriamo con Revenge Ecco E Charizard Charizard Flamethrower E poi Dragon Rage E ciao ciao Geritos Perfetto Un Golding Guarda anche con la mossa di tipo fuoco T-shot Cioè Si sa Vabbè Qua ci sta troppo casino Comunque però Ci sono un casino Di allenatori Guardate Cioè Sono Sono troppi 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 E Quindi Io continuo Da questa parte Ok ragazzi L'iron è salito di livello Ho ucciso un po' di Pokémon Che ho trovato qui nella foresta Io non so se si evolve Vado a tentativo Cioè Ci provo Livello 56 Oh che culo Non me lo ricordavo Cioè Sapevo che si evolveva Tra il 50 Eccetera Vabbè Magari Qua era buggato Non lo so Quindi Ecco La terza evoluzione Di Aron Quindi L'evoluzione Dopo l'iron E quindi Ecco A voi Guardate che bello Agron Esci fuori Agron Eccolo Double edge Double edge Regross life The use of stake All this All the User by A very large amount Allora Iron head È forte E Togliamo Arden Ok Guardiamo un attimo Il nostro Agron Che è davvero Una bella bestiola Parca In serio Quanto sei grosso Eh si Sei bello grosso Sei pure di blue light Ok Quindi proviamo Un attimo Un pokemon Al volo Vedi Dei puntini Qui Un cater No Povero caterpino Non ce la posso fare Qua Non aveva Vabbè Allora Mi siete messi D'accordo Devo provare un attimo Iron Tutti i caterpini Andiamo a quel puntino Allora Chi è Chi è Esci, cadi, cadi No, è bastardo, chi è? Kakuno, vai, Kakuno non mi piace come Pokémon Quindi vieni qua No, ok, l'ho preso Double edge Porca miseria, l'ho strasciuttato Ah, ecco, adesso si sono venuti a fare una piccola Rattata Ehi, Rattata, mi sfida? No, è vero, se mi sfida non prendo il primo Sì, vabbè, sono tutti i caterpillar Vabbè, ho capito Che ho visto, che ho visto Ho visto qualcosa di carino In lontananza Un allenatore, un giraffaring, no Allenatore all'undici, no E giraffaring, ok, uccidiamo Giraffaring con Ice Beam E Non l'ho ucciso, Dragon Rage Ciao, 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 ciao Quindi andiamo nella struttura Questa qua Ma dato che, più sbaglio Cioè, correndo come un pazzo Sono arrivato fino a questa struttura E quindi da qui io vi dico che Per questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di commentare Se non avete ancora fatto Di iscrivervi al canale La pagina Facebook è in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti 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 Ciao a tutti